Cinque spaccate notturne nel corso delle ultime tre notti a Ravenna. La prima era stata messa a segno tra venerdì e sabato al negozio Unieuro all'interno del centro commerciale ESP col furto di 40 cellulari e tablet per un valore stimato di circa 30.000 euro. La notte successiva i malviventi sono entrati nuovamente all'ESP ma non hanno fatti conti con alcuni dipendenti che stavano sistemando degli scaffali e a cortosi del rumore hanno avvisato il 112. Poco dopo le tre di questa notte invece una banda composta da diverse persone utilizzando un tombino ha sfondato la vetrata della profumeria sabbioni alla periferia di Ravenna. Un anno esattamente perché era il novembre del 2015 di anno scorso stessa procedura hanno rotto la vetrina spaccando con il tombino sono entrati direttamente dalla vetrina e hanno portato via un bel quantitativo di refurtiva perché hanno svuotato praticamente diversi scaffali di profumi. Poco dopo un altro colpo è stato messo a segno a porto fuori a pochi chilometri da Ravenna e i malviventi entrando dal locale Kojak hanno sfondato il muro con una massa e sono entrati nel bar sul retro ed hanno sradicato la macchina cambia monete e sono poi scappati. Sempre la notte scorsa a Campiano i malviventi sono entrati nella farmacia sfondando a calci la vetrata ed hanno rubato il fondo cassa di circa 20 euro.